ciao a tutti bentornati e benvenuti sul mio canale innanzitutto buon anno perché questo si è il primo video del 2022 e io ovviamente ho già avuto problemi perché ho dovuto perdere un botto di tempo per sistemare lo sfondo che avevo messo il mio solito rosso ma essendo che oggi c'è super buio non mi si vedevano praticamente né outfit né capelli quindi l'ho cambiato perché l'effetto era un pochino inquietante essendo che ho accumulato un bel po di palette nuove non sapevo assolutamente da quale iniziare vi ho fatto su instagram un sondaggino con quattro fra le nuove palette e la vincitrice è stata la dream big manifest di be perfect ovviamente poi nei prossimi video vi farò vedere anche le altre palette vi anticipo già che alla fine ho preso qualcosina della collezione delle palette dei segni di she glam che se avete visto il mio ultimo video delle novità trend mood sicuramente saprete di che cosa sto parlando comunque io devo ammettere di essere molto contenta della decisione che avete praticamente preso voi per me per la palette di oggi perché questa mi ispira veramente veramente tanto non credo che dalla fotocamera renda come dal vivo però ce ne sono alcuni che sono veramente specchiati tra l'altro appena aperto la palette questo era rottino cioè per fortuna non c'era polvere ovunque ce n'era un pochino qua sullo specchio ma poca roba essendo un ombretto super burroso non ho neanche avuto bisogno di andare a sgretolarlo totalmente e fare la miscela con la soluzione salina perché mi è bastato con un pennello pressarlo e la cialda è tornata perfetta e poi come potete vedere alcuni sono anche proprio duo chrome tra io come tipo appunto questo si vede tantissimo mi piace tantissimo infatti quando ho visto che inizialmente era rotto c'era rimasta un pochino male perché era uno di quelli che mi ispirava di più però a parte quello ci sono veramente un sacco di colori belli oggi sarà un po challenge in realtà perché nonostante siano le 10 di mattina c'è super buio sono illuminata praticamente solo dalla luce della ring light spero per questo 2022 finalmente di riuscire a comprarmi una ring light più grande più luminosa più professionali insomma perché questa è la ultima cosa su wish mi rendo conto che questo effettivamente non dà tutta quella luminosità di cui avrei bisogno quindi a parte come vi stavo dicendo per questa cialda che l'ho dovuta sistemare il resto non ho swatchato assolutamente nulla io non so assolutamente che look andare a ricreare vorrei comunque creare qualcosa un pochino nel mio mood dark witchy però vorrei anche utilizzare un po di colore e soprattutto non vorrei andare a ricreare il mio solito look almeno perché così riesco a truccarmi vabbè spero che non vi dia troppo fastidio quell'ombra lì perché a me sinceramente me ne dà molto comunque vado a swatchare journey sembra veramente bello vediamo un po anche believe poi dopo li vado a swatchare anche sulla mano insta sembra bello freddino in realtà sembra quasi bianco è un lila molto molto freddo e questo bel giallo eccoli qua se sentite rumori sono sempre le porcelle questo azzurro qua direi che mi ispira davvero tanto perché è molto duochrome enni che questa è la cialda quella che si era rotta che appunto avevo già più o meno visto ed è molto bella è super figo lili in realtà è un rosa che si vede comunque che è molto scimberino metallizzato al suo interno ha proprio delle chiazze bianche un po stile uda e penso che sia proprio illuminante bianco e va a dare questo effetto super specchiato in realtà è molto figo anche l'oro è molto bello bandy è un bel copper e infine enni è meraviglioso questo qui sono talmente luminosi che dalla videocamera sembrano luce e basta in realtà questo è proprio un lila con riflessi forse così un pochino lo vedete di più vado con un pennellino sottile da sopracciglia ad applicare come primo colore il nero ho intenzione di andare a ricreare qualcosa di un pochino grafico con un pennellino a punta vado ad applicare stories ovvero questo verde petrolio che non scrive non scrive io pensavo che fosse tipo super intenso invece è leggerino ci sono rimasta malissimo quindi vado a riprendere il nero sempre con questo pennellino e vado ora a picchiettare anche stories ok questo è più o meno l'effetto che avrei voluto ottenere da scubito vado con stories anche un pochino sul nero sempre picchiettandolo così da renderlo meno nero e appunto più del colore che avrei voluto ora vado ad applicare journey con un pennellino in silicone non ovunque perché in realtà nella parte più interna vorrei mettere il verde e ora sempre con questo pennello nella parte più interna vado ad applicare believe ovvero questo verde che secondo me insieme a questo ci sta molto bene vado a pulire il fallout dato un po' dai duochrome ma un po' in realtà anche dal verde petrolio che appunto dovendolo picchiettare ha fatto un pochino di fallout comunque questa situa mi ricordo un sacco le sirene ora vado a fare lo stesso look sull'altro occhio lo completo con le ciglia finte e ci rivediamo poi per la base eccomi tornata con metà look occhi completo sono andata ad applicare il mascara di anastasia il lash brag devo dire che mi sta piacendo un sacco sapete che io non vado tanto a ricercare il mascara più che altro perché mettendo ciglia finte mi servono solamente per annerire le mie ciglia naturali però devo ammettere che prima appunto di applicare le ciglia finte vedo che l'effetto non era niente male e ora vado ad applicare il water jelly di wuda beauty questo primer è super leggero cioè sembra tipo acqua acqua in gelatina letteralmente non mi dispiace con il primer comunque vedete che è anche abbastanza appiccicatino il che è un'ottima cosa da primer poi tra l'altro mi piace un sacco il pack che vabbè come potete vedere tutto trasparente non so assolutamente se rende ma ha la parte sopra del tappo che è tutta olografica vado ora a contrastare le mie occhiaie con il correttore giallo di jeffree star io questo l'ho trovato nella mystery box insieme a questo specchio bellissimo e altre cosine che vedrete nel corso del video e devo dire che inizialmente non pensavo che fosse abbastanza per le mie occhiaie pensavo che sarebbe servito di più l'aranciato essendo che l'ho trovato nella mystery box non l'ho potuto scegliere io invece devo dire che mi ha stupita un sacco perché si comporta molto 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 bene anche sulle mie occhiaie tra l'altro pack stupendo ha come tutti i pack di jeffree star sapete io lo amo tantissimo vado ora a sfumarlo picchiettando principalmente e sfumo nella parte più esterna e vado ora ad applicare il correttore marshmallow di wuda beauty come fondotinta vado ad utilizzare questo campioncino di dior che sarebbe del fondotinta forever natural nude nella colorazione 2n e lo vado a sfumare con il mio solito pennello di spectrum passiamo ora alla cipria e vado ad utilizzare la easy bake della colorazione pound cake di wd vado ad applicarla nel contorno occhi con questo pennellino di essence tutto glitterosino oro e bianco di una delle ultime limited come bronziare invece applico la mia storia fuda di benefit che sapete amo passiamo ora al blush e vado ad applicare fox glow degli everlasting di cavi di vegan beauty tra l'altro pack stupendo vi ho notato anche cosa super figa secondo me che tramite questo buchino una volta finita la cialda potete estrarla perché è magnetico e non dovete buttare tutto il pack comunque deve essere andato qualcosa nelle denti e vedo tutto appannato è orribile giusto perché non c'erano già abbastanza disagi in questo video infatti spero di non fare dei danni però raga veramente non vedo praticamente nulla quindi incrociamo le dita vado ora con un altro prodottino sempre ho trovato nella box di jeffrey e sto parlando della luminous setting powder che sinceramente questo prodotto l'ho sempre un po snobbato non l'ho mai trovato così tanto cioè utile cioè nel senso io cerco full face super opache e quindi andare a settare con una cipria che dà un pochino l'effetto illuminante anche se naturale comunque luminoso non lo so non mi sembrava molto il mio mood però essendo che l'ho trovata nella mystery box l'ho voluta provare e devo dire raga che utilizzandola con un pennellino a ventaglia proprio come se fosse un illuminante l'effetto non è niente male di solito la utilizzo un pochino bagnata oggi ovviamente mi sono dimenticata di portarmi un setting spray quindi proveremo a vedere come vado ad applicare proprio nelle zone dell'illuminante comunque vedete non fa un effetto che vi vedono dalla luna però è un effetto molto naturale che secondo me super carino quindi sì alla fine mi sono dovuta credere su questo prodotto e anche perché effettivamente mi sembrava strano che non mi piacesse un prodotto di jeffrey nel frattempo ho messo un unghie dentro una cialda che bello questo per continuare la serie di sfighe di questo video tra l'altro adesso che l'ho applicata sul naso perché ultimamente quando metto l'illuminante non lo metto sulla punta del naso perché con ste cavolo di mascherine sarebbe totalmente inutile quindi provando adesso ragazza di zucchero filato che buona annutandola così in realtà non si sente troppo come un po' la cipria quella di fenty che io trovo che profumi tantissimo ma la sento solamente quando me la applico eccomi tornata al look completo sulle labbra ho applicato lo standard paint di fenty beauty nella colorazione uninvited ovvio il nero e secondo me con questo look ci sta molto bene ma rendere tutto super dark che era appunto il mio obiettivo quindi che dire di questa palette mi sono piaciuti tantissimo gli shimmer perché c'è bisogno di eye and the water quanto sono belli io metto ste ciglia giganti lo so coprono un palmeca però a me piace proprio l'effetto mi sembra di avere l'occhio nudo quando metto le ciglia quelle più piccoline ultimamente quindi ok mentre invece per quanto riguarda i matt mi hanno lasciato questo effetto wow degli shimmer perché voglio trovati molto sheer anche il nero comunque non era un bel nero intenso tipo anastasia anche altre palette che comunque costano molto bene però c'hanno dei neri nere questo era un pochino non non era proprio pieno come colore e anche il petrolio avete visto che per intensificarlo l'ho dovuto picchiettare un sacco di volte il colore non era assolutamente pieno da subito quindi per quanto riguarda i matt la dovrò testare ancora un po piaccia di scimmia posso già dirvi che è super approvata e la cosa che mi fa strano è che comunque di be perfect ho anche altre due palette le stessi marie e in quelle i matt sono bellissimi quindi non lo so penso che dovrò testare ancora un pochino per il resto l'illuminante chiamiamo l'illuminante perché a parte che è la funzione che gli darò io come cipre non la trovo molto sensata invece come illuminante ci sta ha un bel effetto naturale però comunque luminosino il blush è super bello vi ricordo come al solito di andare a dare un'occhiata giù nell'info box perché lì vi lascio tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social e detto ciao a nulla io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video ciao 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 ciao